Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo sul commissario Bordelli, con tre linee narrative intrecciate, l'indagine di un caso irrisolto, la frenetica ricerca nella montagna e il misterioso ritorno dell'amico scomparso. Il libro offre uno sguardo sul periodo storico del dopoguerra in Italia, con le sue tensioni politiche e sociali. Il libro esplora temi universali come la giustizia, la redenzione e il potere della memoria. Offre una riflessione sulla natura umana, sugli effetti duraturi degli eventi passati e su come le nostre vite siano intrecciate con storie più grandi. La trama del libro nulla si distrugge. Un'avventura del commissario Bordelli di Marco Vichi, edito da Guanda è la seguente. Siamo alla fine di aprile del 1970 e il commissario Bordelli, ormai in pensione, può dedicarsi a un caso riaperto di recente, un'indagine mai risolta che lo tormenta da molti anni. Si tratta dell'assassinio del figlio di un noto fascista avvenuto nel 1947, che nel clima irrequieto del dopoguerra era stato frettolosamente archiviato. Mentre, con l'aiuto del vice commissario, Bordelli scava nel passato alla ricerca della verità, sulla montagna pistoiese la pubblica sicurezza sta scandagliando il bosco in una frenetica lotta contro il tempo e una brutta faccenda tornerà alla luce. Come se non bastasse, un vecchio amico che più di dieci anni prima era scomparso nel nulla ricompare all'improvviso, facendo affiorare alla memoria di Bordelli il ricordo di una vicenda complessa e dolorosa. Perché nelle nostre vite fatte di carne e racconti, nulla si distrugge. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.